Buongiorno a tutti, allora io volevo solamente dire due cose. Prima di tutto io vorrei dire che domani partirò per andare a Gallipoli e starò lì per una settimana. E in quella settimana, oltre a farmi, a godermi un po' di vacanza, farò qualche video di divulgazione artistica. Perché a Gallipoli, in particolare nel centro storico, ci sono innumerevoli chiese, c'è da visitare il Duomo. Ecco, Gallipoli io la considero una sorta di Chioggia pugliese, perché come a Chioggia lì ogni due minuti c'è sempre una chiesa da vedere. Cioè tu passi, in due minuti c'è un'altra chiesa bellissima, meravigliosa da vedere, eccetera. A Gallipoli c'è da vedere il Duomo. Il Duomo che è un Duomo molto particolare perché è dedicato a Sant'Agata, che è la patrona della città di Gallipoli. Sant'Agata che, come molti sanno, viene uccisa durante le persecuzioni romane e viene sempre rappresentata dal punto di vista iconografico con il suo seno in mano. Sant'Agata, appunto, è la patrona di Gallipoli. Oltre a parlare del Duomo, appunto, parlerò di tante altre chiese e c'è anche un castello molto interessante dal punto di vista storico, lì a Gallipoli. Questi video saranno dei video molto diversi dagli altri video precedenti che ho fatto perché non ci saranno delle sigle introduttive. Sono dei video molto semplici, molto veloci, fatti col telefono. Anche perché io a Gallipoli penso che non mi porterò il computer, quindi non mi sforzerò a montare anche video così. Anzi, a Gallipoli penso di portarmi solamente il telefono. Forse mi porterò anche una macchina fotografica, ma devo ancora vedere. Però sono contento di andare a Gallipoli, anche perché è la prima volta che vado lì. Non sono mai andato a Gallipoli, quindi per me è una scoperta. Quindi niente, io sono contento di andare a Gallipoli. manderò qualche video di divulgazione e sono contento di andare lì. Vi saluto tutti e ciao a tutti. Ciao veramente a tutti. Auguro a tutti buone vacanze. Grazie.